...e lo che occorre nel primo tempo, quando l'equipo argentino fuo paziente, che tacco il di Diego... ...ovazione dell'estadio... ...che bárbaro Diego... ...esa desesperazione dell'equipo... ...perché pensavo che quella giocata non poteva riuscire in quel tipo di situazione di campo, invece a lui riusciva e io rimanevo spiazzato. ...e una cosa grande per me... ...una cosa grande per me...